Giorgio Ritreo, uno dei protagonisti di quell'annata che ci ha portato nell'allora Serie C1, torna qui a Liberati. Com'è? Ricalcare di nuovo questo stadio? È dura ma è bello. L'emozione è cominciata dopo la curva che si è cominciato a vedere il manto verde, sinceramente. Pensavo di avere un tragolo perché sinceramente è una bella emozione. I ricordi e poi comunque al di là di quello è comunque uno stadio affascinante, un posto affascinante, un pubblico affascinante. Per cui sinceramente è emozionante. Era più tornato a Terni l'11 giugno? Sì, diciamo che c'è stata un'altra occasione simile dove comunque questa squadra è stata presente per non avere un altro impegno, sempre con finalità benefiche. Io credo che, ho sentito qualcuno che diceva Fere sarete vita natural durante, io penso che l'impegno per noi sarà vita natural durante. Ogni qualvolta ci sarà occasione saremo presenti perché è troppo bello. Quando si entra nella storia come avete fatto voi, credo che la maglietta rosso-verde si cucia poi addosso, no? Sì, c'è qualcosa che si attacca probabilmente perché è così, siamo tutti qua, lo puoi vedere da tu, lo pensi? Senta, Mister Tobia com'è dopo 25 anni? È rimasto lo stesso? Che gli fai ormai? Guardalo un po', ormai che gli vuoi fare? Con il telefonino si presenta. Ecco, no, è fantastico. È fantastico tutto, è fantastico lui, il clima, l'amicizia comunque che ci ha legato perché comunque quella stagione, comunque l'impegno, gli sforzi, le situazioni generali hanno sicuramente costruito qualcosa che è indelebile, indelebile sinceramente. Poi vedo che pretende sempre di più perché si arrabbiava come fosse insomma a ventenni. Sì, sì, ha detto che bisogna vincere oggi a tutti i costi, altrimenti non si torna a casa. Ci porta a ritiro? Va bene, grazie mille. Grazie a voi, bocca al lupo.